Damiano Tommasi, professione calciatore, oggi non più ma ti occupi tantissimo di calcio perché è presidente dell'Associazione Nazionale Italiana e Calciatori. Tu sei nato di venerdì 17 e quindi non sei superstizioso. Non sei superstizioso. Ho fatto anche 17 anni di venerdì 17. E avevi la maglia numero 17. Sì, negli anni di Roma. Negli anni di Roma. La maglia numero 17. Sono molto superstiziosi nel tuo ambiente? Ma parecchia gente scaramantica. Quindi tu volevi sfidare questa scaramanzia? No, sono la risulta nel senso che ero rimasta libera. Ah ecco, era quella che c'era soltanto. Senti, tu sei nato a Negrar, paesino del, si dice così? Negrar? Sì, dove c'è l'ospedale. In realtà sono nato a un paese di montagna che è un po' più su... Ancora più piccolo, quindi una frazione in montagna. Sì, è un comune del veronese dove sto giocando adesso attualmente in seconda categoria. È vero perché tu hai fatto anche un gol quest'estate, una partita che è stata eccitatissima, come se fare un gol a 41 anni fosse qualcosa di speciale. Secondo me lo farei anche ai 50. Dipende con chi giochi. Se giochi con i tuoi figli forse ti battono loro. Ancora no. Ancora no. Una famiglia numerosa. Perché? Aurora è arrivata perché era un nostro regalo dei 40 anni. Aurora è la ultima? Sì, la sesta. La sesta fila, quindi è piccina. Sì, ha otto mesi. Spiega un po' insomma come interpretiamo l'essere famiglia. Il piacere così di condividere anche la crescita, l'educazione, l'essere protagonisti di generare una vita, insomma non è una cosa tutti i giorni. Senti, ma è vero che tua moglie, Chiara, l'hai conosciuta? Vi siete fidanzati che eravate due ragazzini. Beh, visto adesso sì. Eh? Quanti anni avevate? Beh, ci siamo conosciuti che eravamo 15 praticamente perché ci siamo conosciuti alla ragioneria, abbiamo fatto la scuola assieme nella compagnia di classe. Quindi era donna della tua vita proprio. Sì, ormai sì. E ti sei sposato giovanissimo comunque. Siamo sposati a 22 anni. Come mai? Perché i calciatori devono mettere la testa a posto? È bene che si sposino presto? Come si racconta? Ma in realtà ho appena iniziato la carriera quindi non sapevo neanche se ero calciatore o meno. Eravamo fidanzati da 5 anni e anzi, questione di poi forse ci siamo sposati tardi rispetto alla convinzione che avevamo del rapporto tra noi due. Insomma. Come si fa ad essere così convinti di promettersi una vita insieme così giovani? Non lo so. Non lo so. C'è una cosa che avevi dentro? La consapevolezza che comunque insomma era rapporto sincero e serio con una persona seria, con una persona in gamba e insomma poi i risultati mi hanno dato ragione dal mio punto di vista visto che è una mamma speciale. Tu ti sei sposato nel 96 con Chiara e con la Roma, giusto? Il lunedì dopo l'ultima partita che ho giocato a Perugia con il Verona ci siamo sposati a Verona e poi dopo è arrivato il trasferimento e io avevo già firmato comunque un prolungamento di contratto con il Verona perché pensavo di rimanere. In realtà poi per loro esigenze o comunque anche perché ero uno dei pochi che potevano magari cedere e mi hanno ceduto alla Roma. Non ti piace dire mi hanno venduto eh? Ti dà ancora un po' fastidio? No perché venduto sembra che ti abbiano scaricato in realtà è stato valorizzare quello che avevano fatto loro. Beh una volta non si usava tanto questo compra vende con i calciatori adesso è un termine che a me dà un po' fastidio vedendo dei ragazzi, delle persone. Se vogliamo andare sulla politica sportiva c'è un ricorso alla Commissione Europea del Sindacato Mondiale che si batte per questo. Per evitare di usare questa terminologia da macellare? Ma non è la terminologia proprio il senso del trasferimento di mercato che oggi è diventato anche da un punto di vista lavorativo è penalizzante per la parte del lavoratore mentre per le società è meno vincolante l'aspetto contratualistico quindi la possibilità di un dipendente di liberarsi dalla sua azienda in qualsiasi altro lavoro esiste ed è legittima nel calcio non ci si può liberare dal proprio dottore di lavoro se non con penalità e penalizzazioni che sono abnorme rispetto a... Come avere proprio una manetta attaccato al polso. Ma con i contratti plurienali almeno fino alla scadenza del contratto e così ecco. Però potremmo dire con tutto quello che ci guadagni ma andiamo poco per volta andiamo poco per volta perché tu alla Roma sei stato dieci anni fino a quell'anno che ti inseri giallorosso tutta la capitale. Sì, a metà del mio percorso. L'unico scudetto del secondo millennio, vediamo se ce ne sarà qualcun altro, eh? Che esperienza è stata per te? È stata particolare l'esperienza mia di Roma perché è partita in salita nel senso che a parte il breve inizio in cui era una promessa giovane perché ho appena finito la mia esperienza con l'Under 21 di Cesare Maldini. È stato complicato perché gli anni di Carlo Sbianci, Zema non sono stati semplici per me. Giocare criticato sia dalla stampa che dalla tifoseria e poi insomma nella stessa città con la stessa... parecchi della stessa squadra, comunque nella stessa realtà a vivere l'altra faccia della medaglia e quindi il successo è stato un po' particolare sicuramente. Tu hai detto che sei partito in salita, forse sei anche finito in salita, vero? Sì, per altri motivi sì. Hai parlato anche di estraneità e disagio in questa squadra? No, ma è stato dopo l'infortunio insomma, come è stato vissuto l'infortunio. Ricordiamo un attimo il successo, tu ti sei distrutto il ginocchio praticamente, no? L'ultima amichevole del ritiro di quell'anno ho subito un infortunio in campo che praticamente insomma mi sono rotto il ginocchio in una maniera un po' particolare, era in dubbio anche il mio rientro, era in scadenza di contratto quell'anno e quindi è stato un anno particolare in cui ho cercato in tutti i modi di recuperare ma non mettendomi fretta sicuramente perché il dubbio era proprio di ritornare a correre, quindi ogni passo in avanti che si riusciva a fare era un successo, vedendo dove potevo arrivare. Poi alla fine di quella stagione mi era scaduto contratto, non c'era stata da Roma nessuna proposta in quel momento e… E tu hai fatto un gesto che insomma ha fatto scalpore? Ma più che un gesto è stata, parlare di scommessa adesso è un po' può essere fuorviante ma è stata una scommessa, c'era il mister Spalletti arrivato quell'anno che mi ha chiesto se potevo far parte del suo progetto per quello che si era detto prima, la mia anzianità di servizio nella Roma e nel calcio e quindi… Scusami, eri un ragazzo, altro che anzianità. Era trent'anni. Appunto. No, la particolarità è che io nell'anno del mio trentesimo compleanno non ho giocato una partita ufficiale perché mi sono fatto male l'anno, la settimana prima di compiere gli anni e sono rientrato a ottobre dell'anno dopo, insomma, quindi io faccio gli anni a maggio e Spalletti mi aveva richiesto, io non ero sicuro della mia condizione fisica e quindi ho aspettato, poi quando sono stato sicuro della mia condizione fisica ho detto sono disponibile però comunque i punti interrogativi da parte della società, il rischio economico, di vedere se effettivamente potevo fare il calciatore e c'era e allora ho accettato di fare un contratto da calciatore con il minimo rischio dal punto di vista economico per la società e quindi ho di fatto firmato un contratto al minimo sindacale che è il minimo per poter fare il calciatore e investendo su questa mia esperienza a Roma la possibilità di tornare a fare il lavoro che avevo fatto fino all'anno prima, insomma, quindi misurarmi nello stesso palcoscenico e con gli stessi protagonisti con cui lavoravo prima e vedere se effettivamente potevo ancora fare quello di lavoro. È stata una scommessa vinta, perché hai fatto e hai fatto anche bene. La vicenda del contratto al minimo da una parte è stata su tutti i giornali, dall'altra almeno la vedo nel ruolo che ho adesso, è limitante nel senso che purtroppo quando si parla di soldi di calciatori è sempre un tema tabù che in realtà non ha senso, si parla di professionisti che guadagnano e firmano contratti sulla base di ricavi di aziende che si offrono determinati contratti perché introitano di più di quello che offrono. Poi c'è anche il discorso che la capacità che si riconosce a un atleta in mezzo al campo è sempre poca. E qui arriva il sindacalista dell'Associazione Italiana dei Calciatori. No, giustamente, il tuo ruolo, però è una cosa in cui credi. Allora, le obiezioni potrebbero essere... Prima abbiamo parlato di un ragazzo della Roma, un ragazzo a 15 anni non è della Roma, è un ragazzo che gioca a calcio, ha possibilità di farlo diventare il suo lavoro ma è un'illusione che deve stare attento di non cascarci perché rischia fra 5 anni di non giocare neanche più a calcio perché diventa un disilluso, diventa un... Magari porta rancore alla disciplina che l'ha portato fino a giocare nelle giovanili della Roma e in realtà i ragazzi che a 16 anni... Io a 16 anni non giocavo nell'Elas Verona, giocavo in una squadra di quartiere, quindi... E parecchi di quelli che giocavano, anzi, la stragrande maggioranza di quelli che a 16 anni giocano nel Verona non fa il calciatore di lavoro, fa dell'altro, quindi non è questione di sindacalista, è questione di realista. Cioè è tutto troppo veloce, si corre troppo, cioè questi giovani entrano in un campo di cui non sono ancora esperti troppo in fretta e poi magari rischiano di cadere in mano di procuratori di cui non c'è tanto da fidarsi o di illudersi troppo, di stravolgere la loro vita? Il calciatore innanzitutto ha delle capacità che difficilmente gli vengono riconosciute, quindi superare gli esami non solo anno per anno perché si superano settimanalmente. Ci sono milioni di ragazzi che giocano a calcio e solo in 22 scendono in campo la domenica e probabilmente del merito va riconosciuto, vengono catapultati in un ambiente dove si diventa tutto solo perché si fa bene il proprio lavoro o meglio si fa bene quello sport. Diventare tutto vuol dire considerazione, amicizie, credibilità, percezione di aver raggiunto tutti gli obiettivi della tua vita. Prima si parlava della mia anzianità di servizio a 30 anni, un ragazzo a 30 anni è un ragazzo e un calciatore a 30 anni ha finito la sua vicenda sportiva o quasi. Cioè chi arriva fino a 39-40? Sì, ovviamente si contano sulle dita di una mano, quelli che arrivano a 39 anni a essere ancora calciatori di un certo livello. Gli altri a 30 anni c'è una vita davanti che se non hanno e se non sanno gestire questo fatto di essere tutto e subito rischiano di trovarsi come un boomerang più grande di quello che è stato invece il percorso sportivo. Nelle società si occupano anche di una formazione scolastica ma anche umana o soltanto calcistica? Questo è uno dei difetti quindi nel nostro sistema sportivo? Sì, ma non solo del calcio. No, è uno dei temi, degli argomenti su cui lavorate, no? Sì, noi cerchiamo di farlo ma abbiamo contro la nostra percezione che la formazione umana sia importante e abbiamo tutti, compresi i familiari, compresi i genitori, ma non che siano contro. Nel senso che abbiamo presentato qualche mese fa un libro, Ninos Futbolistas, che parla di ragazzini comprati per 200 dollari in Sud America su cui investono procuratori, società sportive, professionistiche europee. Quindi neanche di tutti i procuratori ci si può fidare, dovrebbe essere una tutela? No, ma il problema è che questo business, l'autore stesso che è un giornalista cileno dice che difficilmente finirà perché il bambino, il genitore, il procuratore, la società tutti hanno interesse che funzioni, nel senso che il genitore è contento di vendere il suo figlio per 200 euro, il procuratore è contento di investire, il ragazzino è contento di provarci, quindi di trovare… Quindi è l'educazione che può cambiare soltanto, no? Non so cosa si può affermare, sicuramente l'aspetto che si diceva prima di vendere e comprare, insomma, è uno degli aspetti che mi sta più a cuore da un punto di vista anche sindacale, credo che a bilancio di un'azienda, di un SPA non può esserci una persona come valore patrimoniale. Noi abbiamo tantissimi ragazzini che prendiamo dall'estero, per non usare il termine comprare, e poi abbiamo tanti ragazzini nostri che vanno all'estero, dove peraltro vengono gratificati di stipendi molto alti anche se sono giovanissimi, è un sistema malato, non funziona, non sto facendo la questione troppi stranieri in Italia, però è vero che importiamo calciatori, importiamo promesse e soprattutto esportiamo le nostre. Il fatto di muoversi e di dare la possibilità ai ragazzi di andare all'estero, il 15 dicembre si sono festeggiati i 20 anni dalla sentenza Bosman che almeno a livello europeo ha sdoganato la libera circolazione dei lavoratori e di fatto ha liberato le frontiere da quei lacci che prima aveva dei limiti agli stranieri. Tu non sogneresti una squadra della Roma con tutti i ragazzi della Roma, una squadra del Verona con tutti i ragazzi del Verona? Sarebbe più bello, no? Il problema è che almeno per la cultura sportiva che abbiamo in Italia non gliene frega di dove arrivano, l'importante è che ci sia l'1-0 a fine partita, che ci siano i tre punti poi che siano africani o asiatici, ma questa attenzione al risultato e a come arriva, che non interessa come arriva, l'importante è che ci sia almeno nei paesi in cui sono stato lo vedo, solo in Italia insomma e quindi si è tanto bravi a parlare, poi insomma in realtà si osanna chi vince e si demonizza chi perde, a prescindere da quello che succede in mezzo al campo. Subito, con una grandissima violenza che spesso diventa anche violenza intimidatoria e questo è uno degli altri argomenti di cui ti sei occupato anche recentemente, moltissimo. Come sindacato mondiale abbiamo fatto un black book dell'est Europa dove purtroppo i mancati pagamenti, le violenze si legano molto al calcio scommesso. I calciatori dipendono dai tifosi? Ma non so se i calciatori o intere città, intere squadre, intere società sportive insomma. O dalle mafie. Ma in alcune situazioni ci sono anche filtrazioni, infatti questo libro nostro che abbiamo fatto è il nostro osservatorio che abbiamo istituito, che è il terzo anno che lo facciamo, Calciatori sottotiro è figlio di un altro osservatorio ben più importante e anche più preoccupante da un certo punto di vista che è quello Amministratori sottotiro che è un'associazione avviso pubblico fa ogni anno, anche quello da qualche anno, in cui sottolinea notizie giornalistiche di atti di intimidazione, violenza o minaccia che subiscono Amministratori pubblici nello svolgimento del loro ruolo. Abbiamo cercato e vogliamo fare la stessa cosa con i calciatori perché non è normale insomma il 70% di queste minacce, intimidazioni o violenze vengono dai propri tifosi. Soprattutto al sud bisogna dirlo, per questo che forse si collegano la criminalità con la… Sì ma c'è anche una realtà sociale, è anche un vivere più appassionato, il calcio e l'esigenza si esige molto di più, però uno dei… non so se si riuscirà mai a cambiare che è un po'… scappa a tutti di dire… Non per la nostalgia del buon tempo andato, però non era così inoltre. Ma non era così mediatico, però il rischio di dire… beh con tutto quello che guadagnano ce l'hanno in tanti e questa è la cosa che mi fa più male perché… perché basta come è successo a noi dire che non si gioca la prima di campionato perché casca il mondo insomma, io ho figli che vanno a scuola, se la scuola inizia con una settimana di ritardo non succede quello che succede se si dice che il campionato inizia con una settimana di ritardo. C'è una crisi di astinenza di calcio che… che giustifica probabilmente emotiva perché c'è tanta attenzione, perché le tv pagano tanto per trasmettere le partite, perché i presidenti spendono soldi per investire nel calcio… L'elemento sport in tutto questo quadro lo vedo un po' sottomesso. È uno dei temi di cui ci siamo occupati anche nelle ultime elezioni federali insomma, purtroppo si manda il proprio figlio a fare attività sportiva con la speranza che diventi chi, non con la speranza che dallo sport apprenda… Che sport fanno i tuoi figli? Le bambine fanno patinaggio artistico e a rotelle i due maschietti, uno gioca a calcio l'altro ancora piccolo, non è ancora tesserato… Quando hai smesso? Come hanno reagito i più grandi che erano in grado di capire? Erano dispiaciuti? Ma non avendo smesso perché gioco ancora a livello dilettante… Però più o meno giochi? No… Anche se lavori di più sei più fuori casa perché ti occupi dell'associazione… L'obiettivo è sempre quello di tornare più spesso a sera a casa, cosa che mentre giocavo avveniva di rado, però il fatto di giocare comunque a livello dilettantistico mi si vedono ancora sul campo, il fatto di vivere comunque il mio ambiente da professionista in un altro ruolo comunque non ha fatto mancare questo loro contatto ideale con un certo mondo… E poi insomma le grandi sono tutte femmine quindi di calcio si occupano… Tipano Verona? Ma le grandi non hanno preferenze particolari, i due maschietti, Tipano Roma e Verona… Però anche il calcio femminile è un settore di cui ti stai occupando a fondo… Ma è una delle parti del calcio che rappresentiamo, come associazione calciatore rappresentiamo anche il mondo dilettantistico, anche il calcio 5 e appunto il calcio femminile e purtroppo in Italia non è solo il calcio femminile, in Italia non c'è nessuna disciplina femminile che sia professionale e professionistica, per una serie di concause a cominciare dalla legge che dà, demanda alle federazioni di decidere quale disciplina e quale categoria è professionistica e quale no, nessuna delle nostre ragazze atlete, non solo calciatrici appunto da pallavolo a tennis, nessuno è professionista femmina… Non so, le donne non avevano l'anima una volta, comunque si pensava che dovessero stare a casa soltanto a cucinare, c'è ancora questo retaggio evidentemente, non c'è altra spiegazione… Purtroppo si, ma il mondo del calcio femminile in Europa e nel mondo è in forte evoluzione, nelle ultime Olimpiadi di Londra è stato lo sport di squadra più visto e con più spettatori presenti e più del calcio maschile e i mondiali in Germania hanno fatto un 80% di riempimento degli stadi, è sicuramente una disciplina in crescita sul quale in Italia si sta investendo molto poco. Senti, perché ti chiamavano, forse ti chiamano ancora, anima candida? Beh, il soprannomi decide chi gli dà, il significato vero, l'unica cosa che a volte mi dà fastidio, mi dà fastidio di pensare per una mosca bianca quando in realtà sono tanti gli atleti… Il significato vero lo dico io perché magari tu sei un uomo del nord e delle montagne, soprattutto, quindi sono un po' riservato, molto, fin troppo discreto, anima candida perché da sempre tu ti sei impegnato con la Caritas, con il mondo del carcere, giusto? Sei appunto uno dei pochi che io sappia che si è ridotto al minimo lo stipendio, insomma hai sempre cercato di darti e di spenderti quando ce n'era bisogno, perché? Ma a parte sono obiettivo di coscienza, la cosa di impegnarmi nel sociale è probabilmente figlia dell'essere terzo di cinque figli in cui si è costretti a condividere, non ho mai limitato le mie attività solo perché il nostro ambiente è molto particolare, poi se uno fa una cosa ha mille e male lingue che magari la vedono motivo in più per finire sul giornale quando non ci sono altri motivi e quindi non mi sono mai fatto problemi di questo tipo e quindi ho continuato a fare quello che credevo sia giusto fare e quindi dare visibilità magari alle iniziative che secondo me hanno bisogno di visibilità e… Cioè tu senti la responsabilità, soprattutto la sentivi quando eri osennato dai tifosi, di essere un simbolo, quindi una responsabilità educativa in qualche modo. Sì, dico sempre ai genitori che se il sogno dei loro figli è diventare calciatore o di imitare un calciatore professionista perché si prendono tanti soldi, si va in televisione, si hanno le belle macchine e forse devono preoccuparsi dei sogni dei loro figli, se invece è sognare di calcare i campi più importanti del mondo perché si gioca contro i più bravi interpreti del tuo sport preferito perché si corona il sogno di una passione sportiva allora è giusto crederci e è giusto anche avere i modelli sportivi. Tu dicevi che insomma una delle cose che scandalizza molto appunto a parte questo atteggiamento di compravendita anche sono questi stipendi gonfiatissimi, è vero che anche per le star del mondo spettacolo e della canzone ci sono, resta il fatto che sono troppi no? Che poi che poi sfalsano il mercato perché appunto già si parla di mercato, sono tanti, sono tantissimi e noi ci aspetteremmo noi comuni mortali che quindi a fronte di tanti monumenti ci fosse anche una grande generosità, cosa che si vede poco. Quando sei un simbolo ti hai richiesto no? Il problema è quello, il problema è che un calciatore deve giustificare i guadagni che ha, un imprenditore no, un imprenditore si riconosce capacità, il calciatore è una fortuna. Non capito, privato o pubblico? Voi siete un po' come i politici, siete personaggi pubblici e quindi chi vi piaccia o no? Chi li paga? Il pubblico, il politico. Il politico lo paghiamo noi, il calciatore lo paga un imprenditore che guadagna più del dipendente. Il problema del calcio è che gli stipendi dei calciatori si ha l'impressione che sia il pubblico che va allo stadio che li paga. Nessuno si sognerebbe di dire che Vasco Rossi è un suo dipendente perché va al suo concerto, nessuno. Il calciatore invece è il dipendente del pubblico che va a vederlo, è il paradosso del calcio. In realtà c'è un imprenditore che si compra una società sportiva, si compra il nome di una città, come succede, e può fare il bello e il cattivo tempo. E questo non ti piace dai? Ma non mi piace perché il calciatore deve giustificare. Poi io faccio sempre l'esempio di Federica Pellegrini. Federica Pellegrini si allena a Verona e all'indomani delle Olimpiadi di Londra 2012 ha deciso di fare un allenamento al giorno e quindi di cambiare il suo metodo di allenamento. Passare a un allenamento al giorno a una ragazza di 24 anni, 23 anni, che aveva già fatto tre Olimpiadi e a lei veniva imputato il troppo gossip e per quello non erano arrivati i risultati. Mi chiedo dove erano quelli che parlano di gossip quando lei magari quando andava in terza media andava a farsi tre allenamenti al giorno. Tre allenamenti al giorno per 350 giorni l'anno, non per un mese. È troppo facile parlare per chi non conosce cosa c'è dietro una vita di uno sportivo. Uno sportivo professionista è uno che ha fatto quella vita ottenendo risultati, facendo sacrifici e tutti sono bravi a dire li avrei fatti anch'io se avessi saputo. Ok, e fin qua ti sto dietro benissimo. Però è vero che non abbiamo così grandi esempi, cioè il gossip lo devi anche alimentare. Esempi da proporre ai ragazzini non è che ce ne sono tantissimi. Se vogliamo farne elenco ce ne sono tantissimi. Allora questo è bello, bisognerebbe dirlo. Penso che Demetrio Albertini, Paolo Maldini, Francesco Totti e gli attuali giocatori. Penso che ci siano tantissimi giocatori da Barzagli a Darmian, a De Sciglio. Giocatori che sono dei grandi esempi professionisti, che sono dei ragazzi normali che non hanno grilli per la testa, che hanno la testa sulle spalle, che sono arrivati su un palcoscenico ingombrante, pesante, molto giovani, che subiscono tutte le settimane delle pressioni psicologiche particolari che purtroppo la gente semplicisticamente dice con tutto quello che guadagnano. E' una cosa che non si capisce e non si riesce a capire. Probabilmente sarà difficile da scalfire questo, perché come ho detto prima i soldi di un imprenditore sono guadagnati, sono veri, i soldi di un calciatore sono regalati, quindi bisogna giustificarlo con fare almeno la beneficenza. E poi bisogna reinventarsi un lavoro, no? Non hai mai nascosto di essere cristiano, no? E' abbastanza difficile credo quando sia successo, quando si è sulle prime pagine dei giornali, quando si sta in un mondo di soldi, anche di lustrini, pettegolezzi, quando ti prendono in giro probabilmente anche per questo. Perché quindi? Ma è un po' il problema che si diceva prima, perché i calciatori non si aprono tanto, perché si diventa facilmente una macchietta. Magari anima candida arriva da lì e allora uno diventa timido e dice perché si deve banalizzare una cosa in cui credo e quindi... Però tu non l'hai mai nascosta e anzi hai cercato di testimoniarla, no? Ma perché non credo perché mi si dice che devo credere o perché sono più bello se credo, piuttosto che no. No, credo che funzioni poco, all'immagine credo. Sente di essere una persona con certi principi, certi valori, una storia, soprattutto visto che insomma ho vissuto in un paese in cui i ritmi della giornata erano dettati o della settimana da liturgia e quindi era una cosa di paese. Adesso non è più così. Adesso si fa fatica anche perché la mobilità, il fatto di muoversi, il fatto di conoscere difficilmente il vicino di casa ma di conoscere benissimo quello che è dall'altra parte dell'Italia ovviamente toglie un po' quello che è la radicalità del vivere anche l'aspetto religioso. Però per te continua a contare, per i tuoi figli nella tua famiglia conta? Sì, diciamo che non siamo di quelli che impongono. Non si può imporre, si può solo proporre, no? A me piace che ci arrivino con delle domande cercando delle risposte. Se si trovano risposte, sennò l'importante è tener viva la domanda sempre. Esatto. Senti, tu sei un appassionato di Bob Marley, quindi i capelli ricci e lunghi quando avevi un po' più lunghi erano un omaggio? No. Un po' come la barba, un po' pigrizia. Bob Marley lo cito sempre quando si parla di razzismo con il suo war e la sua metafora. È un altro grande tema questo, no? Abbiamo visto ancora recentemente, no? Sì, che finché il colore degli occhi non avrà lo stesso peso del colore della pelle sicuramente ci sarà conflitto, ci sarà guerra. Stanno tornando nuovi i razzismi, Damiano Tommaso. Sì, credo che, ed è una delle cose più belle che mi è capitata nell'andare all'estero a giocare, insomma, quello di andare in Cina a conoscere un paese per noi sconosciuto. Sei stato il primo italiano che è andato a giocare in un campionato ufficiale in Cina. Sì, mi ha fatto piacere perché mia figlia venivamo dalle Olimpiadi del 2008 e i nostri giornali riportavano sportivi il tipo di preparazione dei ragazzi cinesi, quindi con tanti allenamenti, con lavori quasi forzati per questi ragazzini. Mia figlia mi ha detto in Cina non vengo perché la maltrattano i bambini e io ho detto il mio obiettivo è andare in Cina a farmi un amico cinese che tu capisca che non tutti i cinesi sono così. In realtà l'obiettivo è stato raggiunto perché mia figlia, come adesso tutta la famiglia, insomma, quando incrociamo uno sguardo orientale sicuramente non abbiamo timore ma è quasi simpatia visto che ci ricorda quell'anno che ho passato in Cina nel 2009. Sì, in genere il razzismo si esprime soprattutto verso il colore scuro della pelle nel nostro paese. Ma secondo me si esprime su quello che non si conosce e quindi si teme, invece anche aiutato dal mio lavoro, insomma, gli stranieri in squadra per me sono sempre stati una risorsa, forse solo anche per la lingua diversa, per le abitudini, il cibo, insomma, il modo di allenarsi, il modo di vivere il nostro sport, la musica. Damiano Tommasi, in qualità di presidente, nel ruolo che hai, portateli in giro i calciatori per far vedere che di anime candide forse ce ne sono in senso positivo, forse ce ne sono tante. Portateli in giro a raccontarsi, a raccontarsi nelle scuole, a raccontarsi anche in televisione in maniera così semplice come hai fatto tu. Ma la musica finale qual è? Sceglitela tu. Scegliamo, è ancora la forza di Francesco Buccini. Ok, la forza sia con te. Grazie. Ciao, grazie. Grazie mille. Ho ancora la forza che serve a camminare, mi chiare ancora contro per non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno.